È stata una giornata paradossale perché ammesso in un concesso che esista questa trattativa per vendere ad un fondo straniero di cui conosciamo ben poco la totalità delle quote dell'Arezzo, chiaramente questa qui è stata sbagliata completamente la modalità perché prima sarebbe dovuto arrivare il danaro occorrente per sistemare in parte o in toto i debiti che attualmente l'Unione Sportiva Arezzo ha e poi dopo si sarebbe dovuto presentare le persone a spiegare perché in questa fase qui purtroppo Arezzo non ce la fa più, non ce la fa più ascoltare chiacchiere, ha bisogno di fatti concreti, per cui credo che siano state sbagliate le modalità e questo io glielo ho ribadito. Tra parentesi ci sono un sacco di cose abbastanza non chiare, innanzitutto non è chiaro come sia stato possibile acquisire le quote da parte di Neos, senza aver interpellato il socio di minoranza e avergli fatto esercitare se poteva il proprio diritto di prelazione come a norma di statuto è previsto. E poi non capiamo perché a questo punto Neos ha acquisito le quote per poi cederle completamente o a un agnucco o a un fondo di investimento e quindi facendo così da tramite tutto mi fa pensare che questa sia solamente un'operazione per Neos, non so, per magari chiedere una commissione o qualcosa, ma questo è un mio pensiero, lungi da me affermare una cosa simile, però purtroppo conoscendo come avvengono certe transazioni mi posso anche immaginare che ci possa essere una cosa così, se poi così non è vero, per carità, è solo un mio pensiero, quindi prendetelo come un pensiero non come una dichiarazione eccetera eccetera. Quindi la cosa è abbastanza strana, tra parentesi, pochi minuti fa ho ricevuto la telefonata del rappresentante di questo fondo che mi annunciava che l'operazione sta andando avanti e che nel pomeriggio dovrebbe concludersi e mi ha detto che mi avrebbe richiamato a cose fatte e vabbè io a questo punto sono veramente stufo. A cose fatte quindi nel momento in cui arrivano anche soldi però? Sì, a cose fatte in cui dovrebbero poi partire soldi destinati alle casse dell'Unione Sportiva Rezzo, poi dopo c'è sempre da capire chi si mette intorno al tavolo, chi sono i soci, cosa si decide di fare, perché qui mi sembra di essere in una situazione paradossale, ora le quote sono di Neos col beneficio del dubbio perché chiaramente poi nei prossimi giorni in base all'evoluzione degli eventi ci riserveremo anche il fatto di contestare o meno questo atto di cessione anche se poi le quote, come mi ha detto, se lo contestate le quote tornano a Matteoni, ma questo non è proprio così. Comunque noi qui bisogna puntare diritto all'obiettivo, l'obiettivo è salvare l'Unione Sportiva Rezzo, cerchiamo di capire magari anche più lucidamente tra oggi e domani quello che succede. Tra parentesi credo che a breve il Revisore dei Conti convocherà anche un'assemblea o lo farà tramite il Tribunale perché ci sia la ricapitalizzazione dell'Unione Sportiva Rezzo. Quindi a quel punto lì se ci saranno questi soldi e la ricapitalizzazione è fatta e poi vedremo con chi ci dobbiamo interfacciare perché a precisa domanda gli ho detto ma alla fine di tutta questa operazione chi è che diventerà proprietario dell'Unione Sportiva Rezzo? E mi è stato risposto che diventerà proprietario il fondo o un agnuco per esso. Per cui la Neus è qui una meteora in ogni caso, è venuta qui, ha preteso di raccontarci non lo so che cosa ma queste cose noi purtroppo li conosciamo perché ci stanno ancora bruciando sulla pelle per cui nessuno si permette di venire a raccontarci. Era veramente sicuramente più opportuno e anche la giornata sarebbe andata diversamente se prima ci fossero stati fatti e poi le parole perché poi ormai di parole qui ne siamo pieni. Quindi una giornata intensa come questa dove anche la Lega è venuta, ha parlato con i dipendenti, ha parlato con i calciatori, ha parlato con noi di Orgoglio Amaranto in quanto soci di minoranza perché poi meno male la faccia ce l'abbiamo messa solo noi. Era già una giornata piena e significativa, aggiungere anche questa cosa qui è stata veramente devastante a me mi dispiace l'epilogo però io ragazzi la gente non ne può più, la gente vuole bene a questa squadra farà di tutto per salvarla però tutto questo passaggio di quote a volte è incomprensibile poi puntualmente questo passaggio di quote è avvenuto nel momento in cui c'erano le scadenze federali quindi sembra proprio fatto ad arte apposta, cioè voglio dire a pensare male si fa peccato ma spesso ci si indovina, ora quindi facciamo chiudere il cerchio oggi pomeriggio e domani ma insomma ma temo che sarà un nulla di fatto, io credo questo, cioè non credo più a Babbo Natale alla Befana, l'ho smesso da tempo per cui vediamo, dopodiché ci sono altre strade insomma ci sono altre strade, speriamo che anche l'amministrazione comunale ci metta ancora più impegno non che non ce ne abbia messo, ce ne ha messo come ho detto anche ieri sera, ce ne ha messo sicuramente e credo che ora dovrà raddoppiare gli sforzi affinché riusciamo a traghettare la squadra alla fine della stagione questo è l'auspicio di tutti, io sono un po' stanco, non ve lo nego, sono stanco, stanco, stanco è una situazione paradossale che Arezzo non si merita, non si merita ai suoi tifosi perché hanno un cuore grande sono sempre presenti, sono sempre presenti in trasferta e questo non è più calcio questo non è calcio, questo è una cosa che veramente è imbarazzante non ce la faccio più a commentarla e niente, vediamo un po', grazie non è il nuovo acquirente, è il, come si può dire, l'advisor, esatto è un rappresentante, è un rappresentante, Messina, Messina ora mi sfugge il nome, Messina è il cognome mi sfugge il nome, guardi abbia pazienza perché sono, è un vortice questo qui che non finisce più per cui, per cui niente, ripeto C'è delusione? No, c'è amarezza, c'è amarezza perché sinceramente, sinceramente fare calcio in una città come Arezzo sarebbe la cosa più semplice del mondo, basterebbe dire la verità e fare le cose per bene e rilaborare sui nostri ragazzi, sul nostro settore giovanile, che ci vuole a fare calcio